ciao questo nuovo video che solito che faccio quando riesco a recuperare qualche film di andarmelo a guardare che mi sono andato a vedere questo qua under the boardwalk che un film di solito morai film di anni di animazione il solito morai film magari in cartone che che è uscito a ottobre del 2023 che 2 a 1 1 e 25 come film quasi solito morai film americano che magari essendo uscito in america alla fine di ottobre del 2023 magari qua in italia logicamente magari arriva sempre quei due tre mesi dopo io sono riuscito a recuperarlo grazie magari essendo magari anche uscito a ottobre del 2023 è passato magari qualche mese adesso lo si può anche trovare magari su qualche piattaforma se qualcuno ha qualche abbonamento lo può andare solo magari a recuperare su qualche piattaforma che essendo mai un film di animazione ho visto che hanno hanno messo hanno partecipato a mettere la voce attori come mare tipo anche tipo johnny depp così hanno partecipato morai a mettere anche la come si dice la voce che magari la la sceneggiatura e di lorena scafania e dietro da david loren che più che altro ma è la la trama era di più che altro ma è la solita commedia musicale che se che magari che segue i paguri che vivono sotto il lungomare a questo jersey shore quando armen è un abitante dei granchi di terra si innamora di ramona che è una turista dei granchi di mare che le tensioni tra i loro amici e le famiglie magari aumentano ma quando una tempesta allontana i due da casa il loro amore si condurrà in un'avventura epica che unisce ma è la comunità divisa che più che altro ma è la trama di la trama di questo film e a questa qua che c'è magari ho visto che magari il solito magari film magari come si dice che può andare bene magari per chi magari per le famiglie con è un film adatto per le famiglie per guardarselo magari assieme magari ai figli essendo magari di animazione che magari ne compreso magari è più è uno magari di quei film da andarsi vedere che magari a famiglia con qualche figlio o con qualche magari nipote così essendo magari fatto in animazione fatto magari in cartone magari il solito film magari adatto per le per le famiglie che hanno messo magari la voce ma anche certi logicamente certi attori hanno messo la loro voce per i vari personaggi che nel complesso magari come film era bello come ma è come ha detto ma magari prima ma è il solito film adatto per le per le famiglie con dei figli per guardarselo magari tutti insieme e niente quello che magari potevo dire magari su questo film l'ho già detta massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto morai sul mio canale che a massimo metto sempre sotto in descrizione magari e gli attori che hanno messo la voce per questi personaggi che ci sono nei film e anche video il video trailer proprio di questo film d'animazione e se riesco magari qualche altra informazione in più e niente quello che potevo mai dire su questo film amarello già detta a massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti magari video che porto morai sul mio canale e niente per adesso vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao